Buongiorno, buongiorno a tutti voi, io ho fatto alzare presto stamattina e che probabilmente chi si trova ai ruoli come il nostro ad amministrare una città fantastica come Udine, la seconda è che tutti noi abbiamo voglia di riappropriarci di quegli spazi che quotidianamente probabilmente non abbiamo il tempo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti